Una riunione con 500 famiglie e quant'altro, noi pensiamo e chiediamo alla sindaca di almeno pensare di far rimettere le deleghe all'assessore Floris, visto che comunque sia è stato ancora una volta inconcludente, è venuto in consiglio e ha parlato e ha dato anche risposte sulla base, non si sa di che cosa, perché oggi gli altri ci dicono che il suo settore non è competente alle richieste delle nostre palle, quindi chiedete le riflessioni, potrebbe anche direttamente fare l'apprentificio, ancora una volta si è, ancora una volta si è... Io vi ringrazio, vi ringrazio dell'attenzione e da quello che poteva sembrare che ci avevano seccato la notizia, non ci hanno seccato niente perché diciamo che la toppa che ci hanno messo è peggio del buco che hanno creato. E se a me i dirigenti rispondono che non sanno niente, però gli assessori vengono in consiglia e non rispondono, c'è un problema, c'è un problema, quindi ecco perché è una cosa misteriosa, perché io faccio accesso agli atti, vedevano essere date delle carte, se le carte non esistono ma si continua a rispondere, oltiché c'è un problema. La situazione della sindaca, ma vi ripeto che era per la scuola della fantapie e c'è anche scritto nella cosa. Sappiamo anche di un'interlocuzione con il privato, di una lettera del privato che è inviato all'amministrazione, non sappiamo se l'amministrazione è mai risposta. Sappiamo della riunione che come loro hanno indicato sul comunicato stampa che doveva esserci un privato pare che non si sia presentato, però da qui a far saltare poi tutta questa situazione che anche noi volevamo che diciamo non venisse che il Viale Trento portassi la scuola di questi ragazzi. Oggi, oltre che hanno legato un danno alle famiglie che hanno fatto stare tre mesi sull'acqua alla cora per la scuola, oggi creano ancora di più un danno che creano ancora momenti di incertezza, come già gli ho detto l'altro giorno in consiglio comunale, perché oggi ancora non sanno le famiglie e soprattutto i bambini dove inizieranno l'anno scuola. Noi facciamo anche l'appello. Ecco, guarda, la stampa ci aiuta a fare appello, ma dove li volete mettere? Avete detto lì no, ma dove? Cioè, rispostano? No, non lo so, noi stiamo facendo un appello. No, non lo so, noi stiamo facendo un'altra cosa che continueremo su altri posti. La questione in oggetto, si rappresenta che questa prefettura, pur consapevole dei limiti delle proprie periodo che ha acquisito elementi informativi presso il comune di Viterbo a fronte della preoccupazione manifestata del territorio. Quest'ultimo comune ha ampiamente esposto le motivazioni che hanno determinato la scelta dei locali mondiali 30. L'amministrazione comunale ha inoltre stipulato l'attrazione attraverso i competenti settori delle dovute misure che si è porti a limitare il disagio dei diretti in cui è stato in conseguenza dello spostamento. In particolare, sarà garantita la prosecuzione per gli eventi dentro del discorso ocolastico, del tragitto dell'allenamento fino a Piale Trento, e anche due variazioni della circolazione per un decongestionamento del traffico. Da ora, risulti necessari, infine, il comune rispondrà la presenza di personale del volontariato di protezione civile per l'assistenza sia all'ingresso che all'ecciso dagli studenti. Sì, ma non è... Sì.